venerdì 4 maggio il progetto del dottor roberto laudati difendiamo il cuore è prodotto a veneria reale ospite per una presentazione presso la sede dell'avis grazie grazie gli amici di veneria grazie all'avis che mi ha permesso di presentare questo mio progetto questa sera e grazie a tutti gli intervenuti che si sono dimostrati molto interessati a mantenere il loro stato di salute e quindi ad un progetto di prevenzione per salvaguardare il nostro cuore in poche parole cosa bisogna fare mangiare meglio e fare attività fisica sostanzialmente poi possiamo avere aiuto da integratori alimentari da particolari accorgimenti però il punto base è sempre quello migliorare la nostra alimentazione e evitare di essere sedentari il dottor laudati sarà di nuovo ospite a veneria per la solidarietà sì devo dire che la popolazione di veneria con la popolazione di veneria ha un rapporto privilegiato sono ormai anni che la popolazione di veneria e in particolare il gruppo fratellanza e solidarietà mi dà una mano per raccogliere fondi per la ricerca scientifica in campo ematologico pediatrico e domenica ci sarà un pranzo della fratellanza con una nuova raccolta porteremo anche i bambini del regina margherita e sarà un'occasione per farli stare in allegria almeno per una giornata io sto con il regina e la onlus che gestisce questi fondi e li dà direttamente alla all'università in particolare ai laboratori universitari dell'ematologia pediatrica del regina margherita vogliamo ricordare il sito di difendiamo il cuore www.difendiamolcuore.it e anche un numero di telefono per raggiungerlo più semplicemente 347 26 27 0 15 alla presentazione non poteva mancare il padrone di casa il presidente dell'avis andrea campasso intervistato dal nostro collaboratore fabio artesi sala gredita questa sera all'avis di veneria per difendiamo il cuore dove l'avis sezione di veneria ha ospitato il dottor laudati siamo con il presidente andrea campasso soddisfatto direi decisamente sì la serata ha funzionato la cittadinanza e i donatori hanno risposto hanno risposto bene quindi direi veramente contenti e e poi anche un grosso grazie al dottor laudati l'avis ringrazia i donatori senza i donatori praticamente non si potrebbe andare avanti è assolutamente sì infatti come potete magari aver visto in questi giorni gira un post su facebook dove c'è un chirurgo dove dice che senza donatori non si può fare assolutamente nulla quindi il nostro invito è sempre quello di donare e anche alle persone che non hanno ancora donato avvicinarsi chiedere informarsi e magari diventare in un futuro donatori la nuova serie dell'agis quanti donatori allora lo scorso anno abbiamo chiuso con 800 con oltre 800 donazioni per quanto riguarda il 2017 e siamo in direi buona crescita per quanto riguarda il 2018 un po in controtendenza con il dato nazionale che va leggermente in diminuendo la sede dell'avis è una sede rinnovata assolutamente sì rinnovata e spesso e volentieri ci tengo a sottolineare al passo coi tempi al passo coi tempi perché abbiamo anche possibilità di collegarsi wifi abbiamo anche i maxi schermi per vedere dei video mentre si aspetta per la donazione e ci tengo a ricordare che la prossima donazione sarà venerdì 25 maggio che è proprio lo stesso giorno dove il Giro d'Italia partirà da Venaria Reale quindi nella stessa giornata nella stessa mattinata noi qui avremo il prelievo di sangue Presidente ci apre le porte del laboratorio? Assolutamente sì, con piacere vi faccio vedere sia la sala visite che la sala prelievo qui come potete vedere è la sala visite dove c'è il medico quindi chiunque debba donare o semplicemente fare degli esami deve obbligatoriamente fare un colloquio con il medico che ne dà l'idoneità all'eventuale esame o donazione dopodiché ci spostiamo invece nell'altra sala che è la sala prelievo dove ci sono i lettini e si effettua quella che è la vera e propria donazione questa è la sala prelievi ci sono i quattro lettini comandati elettronicamente quindi con l'opportunità di essere eventualmente se il donatore non dovesse sentirsi bene eccetera ha l'opportunità di sollevare le gambe e si può donare in quattro contemporaneamente tutti nella stessa nella stessa sala